Un omaggio a tua madre, Ilaria Occhini, in un docufilm che la racconta soprattutto come donna, oltre che diva. Infatti parla soprattutto del suo rapporto con il nonno, Giovanni Papini, che era un grande scrittore dei primi del Novecento. Parla del suo rapporto con la mamma che ha perso quando era molto giovane, Gioconda, e del grande amore che ha avuto per mio padre e del rapporto anche con me. La vera e propria icona del teatro e della televisione italiana, che rapporto tu hai avuto con tua mamma? Mia madre l'ho sempre vista come un'icona, come la vedevano gli altri in realtà. Era di una tale bellezza che mi sembrava fosse irraggiungibile, mi sembrava anche strano che fosse mia madre. Aspettavo sempre dei momenti di intimità da condividere con lei, come per esempio mi faceva sempre questi grattini prima di addormentarmi, che aspettavo sempre con grande ansia. Cosa rappresenta ancora per te oggi tua madre? Mia madre è proprio un esempio, un modello di donna. Mi ha insegnato il coraggio, l'indipendenza, l'anticonformismo. Mi ha insegnato a credere nelle mie passioni e a non perderle mai.